Allora, in lives, vediamo un pochettino, sembra di sì, e nulla oggi che è il 18, cioè l'ultimo giorno per provare la beta di Metal Gear Survivor, io la provo, l'ho scaricata ieri, perché me ne sono accorto ieri che c'era, speriamo che sia ancora aperta, allora provo a farlo partire prima di tutto, vediamo un po' qua se la live funge, se si vede o non si vede il gioco, allora l'audio mio funziona, GeForce Experience, consenti a Metal Gear Survive di usare GeForce Experience per catturare, no, non me ne frega niente, i momenti salienti non me ne frega niente, tanto è una beta, allora, per ora il casual disclaimer di GeForce è partito, questo gioco include una funzione di autosalvataggio, ok, italiano, allora, seleziono la lingua del gioco, inglese oppure giapponese, la lasciamo in inglese, almeno forse capisco qualcosa, la luminosità schermo, imposta luminosità dello schermo in modo che entrambe le immagini siano visibili, ah, entrambe, allora va bene, 5, va bene, ma qua si vedono, sembra, sembra che, forse non posso streamarlo, non ho letto i cosi, cosa da accettare, forse non posso streamarlo, verificare informazioni server, non so, non si vede, allora, eh no, non me lo, non me lo piglia, dobbiamo fare così, anche se non c'entra, ecco, così me lo piglia, vediamo un po', sto guardando la live, ok, adesso me l'ha pigliato, prima si era buggato, allora, eh, la beta si chiude oggi, ok, io chiudo, ma c'è ancora, poi non so se mi conviene forse giocarlo col joypad, per dire, secondo me si, allora, puoi sottrarre le risorse di uno zaino, non è proprio pazzia, le spalle, prossimo, ottieni materiali, anello, si, 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 va bene, ok, sono riuscito a farlo venire, selezionare se, no, voglio fare una donna, dai, donna, ma se fico il joystick, inserisci un nome, come cazzo lo chiamo? la chiamiamo, come cazzo la chiamo? più, ma non posso, ah, ecco, più pe, ah, cazzo, c'è wall caps, più pe, d'or, ah, devo farlo attaccato, sfidiamo d'or, dette dorate, dai, va bene, ok, no, si, ok, pipe d'or, ah, che figata, si, facciamo pure la tizia, va, facciamo la tizia qua, come la facciamo? facciamola, non so se è bionda, facciamola bionda, acconciatura, ok, acconciatura, questo tipo 1, ah, c'è poca roba, per l'altro è orribile, facciamola, no, così no, non ci sta per niente, facciamola così, stile delle cilie, ah, pure le cilie, senza è orribile, così, con i capelli, ah, c'è anche rosso, vediamo un po', no, non ci sta per niente, facciamola bionda, ok, poi, fronte, eh, ma io non voglio modificare, occhi, tipo di forma occhi, no, ma ci sta, facciamola un po' più, così, asiatica, naso, seleziona set, ah, ecco, meno male, facciamola in nasino, vediamo un po' gli altri, così, sì, poi, ah, c'è guance, la bocca pure, seleziona set, no, i labbroni no, così, sì, 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 ok, mento, c'è pure il mento, no, il mentone no, ah, andava bene quello là, colore pelle, ah, però forse posso mettergli le cicatrici, mamma mia, ah, così è vecchia, così è giovane, così è giovanissima, ah, mettiamola così, cambia cicatrici, ah, figo, posso mettergli i tatuaggi, orribili, dai, adesso sarebbe bello che faccio tutto sto pasticcio e poi è finita la, la bella, eh, no, 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 il teschio non fosse bianco e sarebbe anche bellino, questo, no, ah, lasciamola senza niente, voce, ah, tra l'altro si sente bene il gioco, ah, lasciamola senza niente, sì, 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 ok, io controllo sempre, tipo di voce, dove l'ho da, nel trance, sono un trambione, tipo, io metto la prima, ah, io direi cos'era la 3, eh, ok, questo qua va bene, ok, ma io volevo modificargli il corpo, non posso, sì, eh, vediamo un po', com'è sto Metal Gear Survive, ah, cazzo, devo disattivare l'audio in gioco, ah, ok, successo, ok, chiudi, non ho letto, si scopre tutto, pillola di rigenerazione bonus, accesso, ok, menu, mappa, social, non posso disattivare il mio audio, qua, allora, modifica, elenco, impostazioni di comunicazione, oh, madonna, io non ne capisco un cazzo, modifica gesti, cambia target, ma c'è un menu, normale, no, allora, io non ne capisco un cazzo, di sto menu, eh, ma qua, gestisce oggetti, ok, impostazioni di comunicazione, modifica, ma io non voglio, non me ne frega un cazzo, di ste cose, io voglio togliere il mio audio, come cazzo faccio, oh, informazioni con opzioni, oh, bene, audio, c'è il vocale, annulla, no, disattivato, ok, sì, bene, non c'è più la cellul vocale, che rompe i coglioni, poi, tra l'altro, volevo vedere, impostazioni grafiche, come sta il gioco, disync attivato, ok, filtro testo medio, io voglio tutto, molto alto, vabbè, quello lì lasciamo gli effetti, ok, occlusione ambientale, ok, sì, ma guarda che carina, però adesso, io come faccio a giocare, nessun dato, se vado qua, io vorrei fare una partita, ma non so, come il cazzo si fa, questa roba qua, che cazzo c'è, come si fa a giocare, ok, ok, e le incommissioni di recupero, facile, facciamo la prima, allora, la partita inizierà con le incommissioni, ecco, ok, vediamo, spero di, di non laggare, cose strane, allora, vediamo un po', dai, trovami un po', i giocatori, qua, OBS sono online, sì, che è tutto posto, scheda video, ci sta, CPU, com'è la CPU anche, eh, ah, abbiamo trovato uno, scusatemi se io controllo sempre le cose, ma voglio, vedere che tutto vada bene, non voglio, sforzare troppo la mia roba, in attesa di giocatori, dai, dai, ne mancano due, ok, dai, ne manca solo più uno, che poi che cacchio è, io c'ho, un dieci, cos'è il mio livello, che l'è, allora, dai, ne manca solo più uno, dai, trovalo, tu che palle, scusatemi molto se si deve aspettare, ma io non ci posso fare nulla, in attesa di altri giocatori, ancora per 4 minuti, allora, missione permanenti, ok, difficoltà facile, area creazione partita Europa, dai, gli altri boss, c'è scritto 16, saranno a livello 16, non lo so, non so neanche che cazzo si deve fare in sto gioco, ho proprio, fatto partire così, per provarlo in diretta, allora, la live va, dai, che roba, informazioni, partecipanti, dai, non me ne frega niente, come cazzo faccio poi a vedere i partecipanti, non mi fa vedere un ca, non mi fa vedere una mazza, 3 minuti, 9, 8, dai, l'epa possibile, sai, allora mi fumo una sigaretta, mentre qua carica, e non so, io non so, tipo mio fratello ci aveva giocato su play, un po' di tempo fa, e a lui è piaciuto, però mio fratello gli piace un po' di tutto, quindi non lo so, non so se, se mi piacerà o no, o ancora 2 minuti e 35 secondi, per scoprirlo, allora, io Metal Gear li ho giochicchiati, non tutti, ho giocato il primo, per play 1, poi mi sembra il terzo, cioè ne ho fatti un po' scaglioni, ne saltavo tipo 1, poi ho giocato a Ground Zero, e, e un po' a Metal Gear Rising, tra l'altro l'ho pure comprato su, su PC, devo ancora giocarci, no, dai, sono usciti, ma non è possibile, gioco del, porca, troia, in beta delle palle, e adesso, si sono offesi perché, perché non ho giocato tutti i Metal Gear, proviamo a cercare un'altra, magari si è buggato, facciamo così, ok, ma va a cagare, dai, allora, ah, con un paio, figo, questo l'ho provato, questo qua cos'è, non mi fa fare niente, no, comunque Konami cambia il menu, perché fa veramente cagare, puoi tornare ai campi base, questo, la panchina, che cazzo è la panchina, ah, personalizzazione aria, mantieni, installa la struttura, che cazzo va a dire, ah, figata, ok, ho installato la struttura, qua, impara le diverse abilità, usa cube per migliorare la classe, ottenere abilità, e questa roba qua, che cazzo è, zona d'addestramento, tiene imprimuto per attivare i bersagli, da destra, ma no, io voglio giocare, eh no, poi riproviamo, proviamo, ancora una volta partita veloce, ok, vediamo un po' se sto giro trova qualcosa o no, eh, ricerca sessione, grazie, prima mancava uno, gli altri sono usciti, po' comeri, è già tanto che la beta è ancora attiva, ok, oh, gioco, che cazzo dici in attesa di altri giocatori, ma non è possibile, ok, si inizia, e ora, tempo, che cazzo fa sto qua, ah, devo andare dentro, qua, no, veramente, io non capisco, questo gioco, come cazzo, ah, posso cambiare, equipaggiamento, ma io non ho un cazzo, eh, c'ho solo questo, qua, ho solo questo, ah, pistola, ok, boh, boh, credo che fra un minuto e quaranta parte, ah, uno se n'è già andato, affanculo, come faccio, ne credo, perché non ho fatto il tutorial, aspetta, ok, 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 così c'ho la pistola, bene, pezzo che mira, dai, quaranta secondi, si parte, posso sparare al mio amico? no, scusa, volevo formare, bello, proprio bello, dai, ma parti, veramente, è troppo lungo l'attesa, porca miseria, poi il menubo, io non ne capisco un cazzo, là c'è la mappa, è troppo, troppo incasinato, così, carino da vedere, ma è troppo incasinato, per uno vecchio come me, è troppo incasinato, ste cose, ok, forse parte, forse si riesce a vedere qualcosa, ok, siamo spawnati, allora tizio, tu che sai, cosa devo fare, dobbiamo andare laggiù, tipo, se io voglio mettermi, cazzo fatto, no, ok, ah, c'è uno zombie, bella miseria, il gioco è stabile, per essere una beta, per ora, funge, ah, là spawnano, robe, che cazzo, ruote, ok, ok, ah, l'ambientazione è anche carina, guardate la grafica, là c'è uno zombie, ma è morto, non lo so, ok, ma salo, ma salo, c'è un altro, dove, eccolo là, ok, ah, assi di regno, raccogli, posso spaccare così, no, boh, io piglio, anche questo, posso rompere, boh, spacchiamo tutto, ah, là c'è uno zombie, ok, faccio un altro, ma che cazzo, io non capisco, il cazzo 100, uno zombie con metal gear, a parte il suono, va a cagare, ok, devo andare qua, ma perché devo scavare, forse era meglio che aspettavo i miei amici, raccogli, ah boh, raccogliamo le ruote, attiva, adesso cosa arriva al mondo, arriva il mio amico, lì, ondata 1, iniziata, io spero che la live, non scatti, nel gioco, per ora, va bene, non laggo, punteggio personale, 110, la ruota, io piglio le ruote, ma devo stare vicino, ah, l'elocizza lo scavo, ok, se non ho ancora capito, perché dobbiamo fare sta cosa, ahia, là c'è un mio amico, che è a sua prima tavisa, oggetti ottenuti, gomma, ahia, tra l'altro non ho guardato se l'audio era settato bene, io spero di sì, ma è poi zombie, dove cazzo sono, ce ne erano quattro, è bom, qua, eh, non ho più, ah sì, ah sì, ho altri, boh, qui non ho ancora capito, che senso ha, sto, ah, arrivano qua, gli zombie, ma toi, aspetta un po', vediamo la lancia, sopporto, tre secondi al termine dell'ondata, ondata 1 finita, quindi, io velocizzo di nuovo, reattivo, boh, ah, io sto facendo tutte le robe a caso, inizio, richiesta, otchie, laki zitto, eh, non ho letto, porca, qua posso vedere la mappa, ah, non ho punti, eh, ok, allora, io non ce l'ho capito un cazzo, qua, ma io piglio roba, chiudiamo i vasi, ok, laggiù ci sono i zombie, allora, ma che cazzo, come facevo cambiare le armi, spariamo sto lobo, che cazzo, kamikazu ucciso, ah, c'è un altro, laki, porca troia, ma tipo se li sparo, ho già finito le munizioni, oh, 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 ma dai, beccalo, atto, uh, ma è pieno, ok, kamikazu è esploso, e mi sa che abbiamo perso, bella miseria, allora, come faccio ad usare i medici, come cazzo si usa, sta merda, porco, giuda, eh, io voglio usarlo, ma non si capisce, e non ho munizioni, ma, come cazzo faccio, ah, ecco, ok, non ho munizioni, chiudiamo il macetto, ok, dai, ok, ok, oh, oh, maron, aia, sì, ma non, non ucciderà, non ucciderà, dunque, posso curare l'escavatore, ah, ce l'abbiamo fatta, ma non lo so io, su, io non lo so, non ne capisco niente, si può aggiustare, deposito, botti d'acqua, munizioni, eh, non posso fare un cazzo, come faccio a fare, seleziono slot equipaggiamento, ma non si capisce veramente un cazzo, io vorrei capire, come cazzo, ricaricarmi le munizioni, ma non, non lo capisco, qua ci sono delle icone, ah, qua dentro, cos'è, banco di ripa, crea, ah, spray medico, ah, non ho la roba, torrette, sacchi, granate, e mi manca la roba, TNT, spray, legno, ok, ma io vorrei, vorrei, vorrei delle munizioni, ma non so, ma come cazzo si fanno, qua, forse qua, crea, eccole, mi manca polvere da sparo, dove cazzo la figlio ha polvere da sparo, qua, ok, crea, questo, equipaggio, e basta, ho fatto, ho fatto, tre proiettili, qua, rame, boh, io raccolgo un po' di tutto, però mi manca la polvere da sparo, crea, crea, proviamo a fare delle, barricate, due, equipaggio, qua, ok, equipaggio, ma vediamo un po', come faccio a far venire, ecco, tipo una, una fa, ok, una fa, e una fa, poi non ne ho più, no, ma porca, oh cazzo, voglio la pistola, la pistola, eh, ho finito, jeffrey, e la, e la misè, c'è un po' tutti, porca miseria, si, ma qua ce lo fottono, dai, ma, bella, michè, minchia, usabile, la miseria eh esploso io non ci ho capito un cazzo con le armi di merda e tutto il lavoro che ho fatto? ah c'è ancora e meno male che era facile qua cosa c'è? eh punteggio B missione completata ma è l'elenco ricompense, che cazzo mi dà? ah per ora il gioco non mi dice un cazzo wow sono arrivato pure il secondo bene bello bello proprio bello tra virgolette non mi dice proprio un cacchio sto gioco allora vediamo un po' forse la cazzata che ho fatto io è avviare subito il coso prima magari si doveva andare a cercare delle delle robe e poi avviare minchia ma sto gioco qua è un'attesa assoluta non è possibile allora facciamo così usciamo ne cerchiamo un'altra continua il gioco che cazzo prenoto sto coso? cos'è sta roba? l'avessero chiamato sopravvivi in mezzo ai zombie senza capire un cazzo l'avrei comprato magari però Metal Gear cos'ha di Metal Gear sto gioco il nome il nome e qualche suono informazioni premio battaglia ah ho avuto tutta sta roba qua dentro un po' verdi cassette scorte oh figo pigliamolo 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 pigliamo tutto ricevi tutto ok gestisci oggetti ah non è questo no cambia equipaggiamento tipo qua ho solo questa roba ah c'ho la mazza ecco mazza mazza e coltello poi qua ok arma secondaria mettiamo il fucilozzo questa roba a esca ma non ne ho bomba moloto non capisco non capisco mina di pro ah ok facciamo due qua sotto mettiamo una bomba un paio di bombe moloto due ok ah ma c'ho anche ok 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 passa montagna orribile cappellino questo dai questo è già più bellino qua eh guanti pure questo questo ah c'è anche scritto la difesa difesa 54 no è meglio questo invece qua allora 63 ok accessorio testa non c'è un cazzo cappellino invece cambia un cazzo cambia che questo pesa di meno poi qua bombola d'ossigeno qua non c'è un cazzo uno slot aggiuntivo viene aggiunto la ah mettiamo quello mettiamo questo mettiamo questo e qua non posso mettere niente qua ok facciamo ne 21 qua non posso farne altre qua posso mettere esca facciamo 2 ah ma posso proprio rifornirlo al massimo così più 6 più 4 non posso mettere niente 4 ah io metto tutto al massimo allora scusa qua sotto posso no posso mettere il mio ah eh ma mi dà il puntino lì ma no bu ok ah guarda che bellino che bellino che sono qua cos'è allora a nuovo livello livello 11 ok boh io lo sto facendo così a caso ah ma nella beta mi sa che c'è solo questo oh che stanchezza da quant'è che sono in live 40 minuti tra i quali 10 di perdita di tempo la troverò la gente la troverò la gente la voglio ancora trovare una volta così per vedere però mi sa che la missione beta è sempre la stessa di fare quella roba là boh sono a livello 12 così non so neanche io come ho fatto a salire lì con i punti lastrani dai ne manca uno è bello che è facile solo che io prima sono partito senza niente bene passaggio al punto di incontro ok sono pure quello di livello più alto ah qua mi posso già creare la roba ah ecco gli slot cosa servono ok lo capito ancora uno poi proviamo a farci questo qua di ferro ne posso fare sempre 6 ok ok lì mitraglietta ok ripaggiamola qua trappola a fuoco non posso più farla e facciamoci un sacco di sabbia mettiamolo lì ah esca molto e qui fa metti in magazzino questa spray medico facciamone pure va buono 4 su 9 questa roba qua barrica una barricata di legno e facciamo nebo ok ho fatto tutto ancora 44 secondi oh a sto giro c'è un bel po' di roba tra l'altro non so se si sprecano le munizioni qua dentro ah no è infinito qua meno male ah doi c'è un bel rinculo va eeeh cazzo eeeh boh adesso ho capito il senso di sto menu strano più che altro dello aspettare almeno uno può già farsi la roba che è un bene peccato che è pieno di caricamenti ok però non sono tanto l'unghia ok dunque io voglio prendere le armi ok pigliamo la cadrega boh io piglio roba a caso graficamente è bello io non so come metter via 5 the phantom pain perchè non c'ho ancora giocato però tutto qua ha dell'afficamento carino guarda le ombre più che altro guarda ah sono stanco le ombre sono veramente fatte bene io sono un feticista delle ombre guardate qua ma io voglio anche il martellone ah si entra da qua ah chioli raccogli è legno picconi ok faccio uno gioco devo fare attenzione devo fare attenzione alla stamina che scende giù un casino e poi dopo cadono e potremmo muovermi ah però la stamina è solo quando uno ok quando uno corre allora quasi qua vieni qua minchè fortissimo è lenta ma è fortissimo vieni qua allora poi no questo vai non si capisce un piano dopo no ok così ho messo un po' di roba no 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 poi di qua è anche aperto come faccio di arrivare ah ecco quindi anche qua lo posso mettere almeno rompe un po' le valle dei zombie no mettiamo poi prima io avevo visto che da qua arrivano gli zombie però io ho un altro menu ecco qua a 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 ma perché mi ha rotto metti sto cancelletto dai che grave ho messo un po' la cazzo però mi sa che ogni ondata ci spacca un pezzo è infatti nooo ho lanciato una mola qua oh che coglione ah ok non ne ho ah no mi ero fatto della roba prima da mettere nel deposito boh raccoglio allora 10 su 10 e non ho più altro poi l'altro cosa era qua crea eh posso farne su mi mi sa che le rettili sono le migliori anche questo 4 5 6 boom e questo eh non posso farlo peccato e facciamone due o tre di questi boom ma forse sto iniziando a capire il gioco oh 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 ok ok mettiamo un muretto qua così qui no no oh 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 beccato oh 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 beccato anche il mio mio grande azzo azzo ok di qua no ok di qua ma che coglione che fai ma non ho più ho mai cacchio oh cacchio hai già ok mamma mia faccio una fatica cacchio cos'cacchio Ma io ho preso proprio io. Ma io ho preso proprio io. Ma non è più caldo. Dai! Grazie. Grazie mille. Ok. Dunque. Ok. Una qua. Una qua. E una qua. E forse un'altra qua dai. Ondata 2 di 3 dai. Ce la possiamo fare a sto giro. Ma non ho più. Ok. No. Ok. 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 è tipo adesso se vengono tutti in gruppo ah esca questa qua per buttare ok ho capito ho capito ho sbagliato beh poi no e invece allora esca poi di qua mettiamo questo cancelletto dai ma non è possibile è impossibile e va bene lascia un nuovo video ho sbagliato dobbiamo prendere il pompa che cosa è brutto no no questi qua sono buoni eccole li vieni fuori vieni fuori no 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 Ma guarda che c'è, ce lo stiamo cavando, sto tiro. Peccato che c'è il poco amico, che casino. Ah, là ce ne sono anche tutto. Dai! Aia, nulla! Sì, ma se sono nella beta, capisci bene. C'è ben fatta. Ah, c'è un po' altro. Ma ce l'abbiamo fatta. C'è ancora un round. No, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ma che cazzo succede? Missione è completata. Ah, ok. Ok. Ah, boh. Compaiono delle casse dall'alto. E' finita lì. Conti battaglia, sacco di juta. Un casino di roba. Non sono anche io. Alanti. Sono primo. Non ci credo. Ok. Tieni premuto per uscire dalla modalità lì. Ok. E niente. Io direi... Quanto sono arrivato di là? Già un'ora e cinque. Ah, io direi che per questa live di Metal Gear Survive è tutto. Anche perché sulla fine la beta è questa. E sulla fine si vede sempre la stessa roba. E non è che è molto bello da vedere. Abbiamo già visto come fallire una missione e come completarla. Informazioni... Ah, già avevo anche... Porca trotta. Ho fatto la torretta, non l'ho messa. E niente. Io direi che per questa live è tutto. Io saluto tutti quanti e vi auguro una buona serata e una buona domenica. Ciao, ciao.